Allora, do un po' di contesto perché Alessandro Apreda è uno dei primi blogger che ho seguito nella mia carriera sul web e quindi si parla di forse i primi anni 10, io ti ho iniziato a seguire nei primi anni 2010, quindi ero appena sbarcato su YouTube e mi ricordo che i tuoi articoli venivano ripostati più e più volte perché comunque hai sempre parlato di argomenti che francamente sai bene mi interessano molto in particolare argomento Giappone, argomento, diciamo pop culture, otaku culture, chiamiamola come cazzo ti pare, comunque mecha, kaiju, anche serie un po' di cose da nerd che ci piacciono dai si si può dire. Ecco, lascio parlare te adesso, la chi sei? Che cos'è l'antroatomico del dottor Manhattan? Magari spiegalo te che lo spieghi meglio. Non è facilissimo da spiegare, una volta era più semplice perché quando è nato era un blog però era il 2007, un mare di anni fa, era il periodo in cui c'era tutto un ecosistema di blog per cui tutti quelli che conoscevano, che conoscevano, che lavoravano nel campo dei videogiochi, delle riviste di videogiochi, avevano un blog e tu avevi il tuo ring di amicizia per cui avevi il tuo blog, linkavi i blog degli amici, insomma ci si faceva, c'è un'espressione poco cortese per dire questa cosa, però ci si scambiava visibilità tra colleghi sostanzialmente ed è nato perché in quel periodo viaggiavo molto per lavoro e quindi andavo alle fiere del videogioco, soprattutto Stati Uniti, Giappone, Inghilterra e raccontavo di questi viaggi e soprattutto siccome facevo il responsabile editoriale e quindi ero costretto ad assicurarmi che le riviste di cui mi occupavo, c'era una rivista di videogiochi su cui ho lavorato tanti anni che si chiamava Play Generation, avessero un certo, insomma rispettassero una serie di regole imposte dalla casa editrice, no? Si sbragasse numero per numero, invece il blog ti dava la libertà di scrivere quello che ti andava, come ti andava, senza paletti di alcun tipo, no? Ed è quello il remaster, un blog personale, ce l'avevano tutti, ricordiamo che, soprattutto a chi è più giovane che all'epoca non c'erano i social, cioè non esistevano i social, YouTube era appena nato e non era ovviamente YouTube quello che sarebbe diventato solo pochi anni dopo, era un video dove c'erano questi brevi video per lo più simpatici, però non c'è, cioè anche tanti YouTuber che sono esplosi erano agli inizi, cioè perché era il, ripeto, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, quando mi ho imbaneato in testa questa idea. E' stato un blog personale per tanto tempo, seguito da tre persone, tolto da mia madre due, tolto me una, no, a parte gli scherzi, letto davvero da 30, i post erano letti da 30-40 persone, poi è nato Facebook, la condivisione di alcuni contenuti ha iniziato a far girare delle cose, mi sono accorto che c'erano dei contenuti magari che erano letti da 3.000-4.000 persone, che mi sembravano dei numeri enormi, calcola che per lavoro io facevo riviste che venivano lette da 200.000 persone, però quelle erano riviste fatte da tutta una serie di persone, quelle erano cazzate che scrivevo io in 5 minuti, e vedere che tante persone leggevano queste cose ovviamente mi faceva piacere, e poi il blog è rimasto, mentre tutti gli altri blog che conoscevo attorno sono morti, nel senso che tanti sono passati a fare i video, i social e in particolar modo Facebook hanno surrogato, no? Cioè chi voleva scrivere delle cose giorno per giorno, le sue esperienze, eccetera, ha incominciato a farlo direttamente sui social. Cioè il post, direi. Sì, scrivevo un post, è rimasto lì come un corpo a sé, in cui io comunque continuavo a scrivere anche le mie cose personali, belle e brutte, oltre a parlare delle cose che mi piacciono. Cioè alla fine ho sempre fatto quello, no? Cioè le cose che mi interessano, che mi destano curiosità, come è nato questo manga che mi piace tanto, vado a fare un po' di studio della cosa, e lo faccio perché soprattutto interessa a me. Poi condivido quello che ne viene fuori, però, oppure mi fa ridere tanto un telefilm scemo. Per dirti, una delle cose che hanno avuto più successo in assoluto nella storia del blog sono i riassuntoni di Game of Thrones, no? Che hanno avuto dei numeri mostruosi, talmente alti che tanta gente non sa manco che l'ho fatti io. Cioè perché vedevo delle pagine di Game of Thrones che li condividevano e tutti scrivevano siete fantastici, scrivete delle cose troppo divertenti. No, l'ho scritto io. Però, per dirti, sono nati perché mi facevano sganasciare le risate alcune associazioni che mi creavo nella testa dei personaggi, no? Che quella era una tizia con la parrucca e quindi era la CIO parrucca bionda e tutto il resto. E poi io le scrivevo, però erano cose che nascevano perché mi facevano ridere, divertire, emozionare, in senso lato, no? E secondo te che è la prima cosa che viene, no? Cioè la prima domanda che almeno mi sovviene a me. Secondo te, nell'internet del 2021 ormai, i blog hanno ancora senso di esistere oppure no? Certo, te ci scrivi e quindi sei un po' di parte, però da un punto di vista esterno, come la pensi? Se me l'avessi chiesto anche solo due o tre anni fa, ti avrei detto di no, perché sono chiaramente un anacronismo. Sono quanto resta di un internet di altri tempi. Tanti hanno avuto un'evoluzione, sono diventati dei siti a tutti gli effetti. Altri, come dicevo, sono rimasti lì, appesi. Le persone hanno cominciato a scrivere quelle cose altrove sui social o a trasformarle in contenuti video. Anche se le due cose sono ovviamente diverse, molto diverse. Banalmente perché non tutti sono in grado di produrre dei video di contenuti adeguati, cioè interessanti, visto la... Cioè non tutti sanno fare le cose come le sai fare te, come le sanno fare altri che sanno realizzare i contenuti video importanti. Però negli ultimi anni c'è stato un minimo di ritorno. Voi perché c'è un certo tipo di giornalismo, anche serio, negli Stati Uniti, che si basa su questo tipo di impostazione. Penso all'esplosione di una piattaforma come Medium, che ha messo a disposizione proprio il blogging di nuovo di tante persone. Anche chi era rimasto ai tempi di WordPress o di Geosities, poi, di un miliardo di anni fa. E secondo luogo perché i social purtroppo hanno questa grande cosa dell'immediatezza, la comunicazione, tutti quelli che utilizzano quella piattaforma possono partecipare alla discussione, quindi non c'è il problema, devo avere l'account su Discuss, oppure devo essere loggato su Google per rispondere, per partecipare. E tutto in tempo reale, immediato, c'è il problema che non resta un cacchio. Cioè, qualsiasi cosa, se tu scrivi un approfondimento, una cosa più importante, per commentare l'immediato, per fare due risate tra la cerchia allargata, la tua bolla di contatti, no, i social vanno benissimo. Però, se tu vuoi scrivere qualcosa e vuoi che ti resti, poi diventa difficile andarla a recuperare. Anche solo una cosa che hai scritto l'anno scorso, prova ad andarla a pescare da un social se butti fuori tanti contenuti. È complicato, e per contro io mi ritrovo delle cose che ho scritto, magari sette, otto anni fa, e di cui non ho neanche memoria, perché ho scritto un po' su un blog, ci stanno quattromila post. Conosco la sensazione. E ho detto, ma l'ho scritta io questa cosa, cioè proprio davvero, perché non te lo ricordi manco. E questo però è una cosa bella, perché a volte lì fissi, davvero come se fosse un backup digitale della tua esistenza, delle cose che ti piacciono, fissi le sensazioni che hai provato, da cose non particolarmente importanti, no? Cioè la dilusione che hai provato quando sei andato a vedere l'ultimo film di Predator e faceva cagare, sei uscito e non ti riuscivi a capacitare di quanto fosse brutto, a cose belle che hai vissuto, non soltanto nel campo all'entertainment, ovviamente, no? E questo per me è importante. Poi c'è che a volte finisce, che magari cerchi qualcosa su un determinato argomento e trovi che ne hai parlato solo tu. Cioè dalla ricerca di Google esci tu, quindi o hai sbagliato tu la prima volta, e quindi quella roba non esiste, te la sei inventata, oppure evidentemente, perché tante informazioni purtroppo sui social si perdono, non è che io devo fare Wikipedia, per carità. Però mi fa piacere che se non mi ricordo esattamente cosa ho pensato di un film, di una serie TV, quando è uscita, lì per me in due secondi recupero quello che ho scritto all'epoca e mi resta, insomma. No, io infatti utilizzavo i tuoi articoli non solo per reader, perché oggettivamente le tue robe fanno reader, poi anche tu hai i tuoi meme, il tuo linguaggio, proprio il modo di scrivere gli articoli si riconosce subito e immediato, ma anche per informarvi, perché alla fine, sì, ti sei fatto due risate, ma hai imparato tanta roba. Ma anche nelle classifiche, oppure nelle disamine, nelle monografie più sceme, comunque c'è sempre qualcosa di curioso, qualcosa di carino, che sicuramente aggiunge al bagaglio culturale di una saga che ti piace. Per esempio, tante info, tante curiosità su Alien, io non le sapevo. Ho letto le tue robe e tante cose le ho imparate anche da lì. Oppure quando addirittura ti sei messo a vedere le versioni estese dei film di Alien. Anche lì mi sono ritrovato perché nessuno si mette, cioè pochi si mettono a vedere l'edizione Blu-ray, com'è confezionata e soprattutto com'è questa benedetta versione di Fincher allungata. E vediamo se possiamo rivalutare il film. Quello è stato un articolo, per esempio, che ho apprezzato tanto e che è stato interessante. Per chi non ti conoscesse, a parte raccontare chi sei, quali sono gli argomenti caldi che ti piace affrontare sul tuo blog? Cioè di che cosa sei appassionato principalmente? Allora sono tanti e uno dei motivi per cui il blog ancora esiste dopo tanti anni è che mi diverto a parlare di quello che mi piace. Cioè tante volte mi sono detto che se avessi puntato su degli argomenti che semplicemente andavano di più, le serie tv, tanto per dirne una, perché le serie tv ormai le guardiamo tutti e siamo tutti grandi conoscitori di serie tv, abbonati a 30 piattaforme contemporaneamente e tutto il resto. Però il blog avrebbe continuato a crescere o comunque determinati contenuti sarebbero andati molto più forti. Però a me è piaciuto sempre comunque fare le cose che mi andavano. Cioè se volevo parlare di un film di Godzilla del 67, sapevo che quel post l'avrebbero letto un decimo delle persone che mi seguivano per Game of Thrones o se volevo parlare di un nuovo Chogokin che avevo comprato di Vultus 5, no? Già manco la gente si ricorda, tanti non sanno manco che diavolo è Vultus 5. Però continuavo a farlo perché era quello che mi piaceva, mi dava voglia, cioè non è un lavoro. Con tutto che ovviamente il blog mi ha dato tante possibilità perché alla fine io ho lavorato nel campo dell'editoria per 20 anni ricevo più proposte di lavoro e da persone che mi seguono per le cose di ridere che ho scritto che non persone magari che mi conoscevano per quello che faccio come lavoro. Però al di là di tutto rimane comunque una passione, no? C'è una cosa che passa tempo, poi si è sedimentato attorno comunque una grande famiglia di amici, una community che mi ha dato tanto davvero in questi anni. Però al di là di tutto c'è che se non ti diverti non funziona, no? Certo. Le cose che mi hanno sempre appassionato sono per esempio le pubblicità dei giocattoli. È un argomento che mi ha fatto sempre impazzire, ma perché non solo, ne abbiamo parlato sai altre volte, non solo c'era questa discrepanza enorme tra come ti vendevano le cose e come erano poi davvero i giocattoli. Perché per quanti, in qualsiasi epoca, anni 80, anni 90, inizio anni 2000, c'erano le pubblicità, le famose pubblicità forvianti di Topolino, che è una rubrica storica che c'era sul mio blog. A volte erano bellissime le pubblicità e facevano schifo i giocattoli. A volte erano giocattoli bellissimi, non venivano pubblicizzati, ma soprattutto c'è la sta cosa assurda che più indietro vai su Topolino, negli anni, e più criminali sono le pubblicità. Cioè criminali in che senso, scusami? I pubblicitari evidentemente si divertivano a fare robe piene di doppi sensi. Allora, io sono nato nella seconda metà degli anni 70 e ovviamente non ricordo, perché non eravamo ancora nato, le pubblicità dei primi anni 70, di fine anni 60, ma si vai a spulciare i Topolini di quell'epoca. Ci sono delle pubblicità che o erano totalmente ingenue le persone che le hanno realizzate, e io non credo che i pubblicitari dell'epoca a volte sono nomi di grandi studi lo fossero, oppure si divertivano come dei mandrilli, perché c'erano le pubblicità tipo la pubblicità del Vinavil, e c'era questo messaggio che diceva i bambini si divertiranno un mondo con questa colla, che tu immagini, per quello che sappiamo che succede ancora nel terzo mondo, no? È una cosa completamente fuori. Oppure c'erano le pubblicità dell'Atala, della BMX, c'era scritto Monta l'Appelo, oppure Per Polsi Caldi, il motorino con il polsino dell'Atala, Per Polsi Caldi, perché era l'idea di smanettare, no? Con l'acceleratore. Però non è la prima cosa che ti viene in mente, se c'hai più di 12 anni e vedi una pubblicità e c'è scritto Per Polsi Caldi, uno col polsino, no? E era una pubblicità che andavano comunque su un giornale, che è un settimanale, che pur essendo letto da persone di tutte le fasce d'età, aveva come pubblico primario il core target, come dicono quelli che ne sanno, comunque dei bambini in età scolare, e queste cose mi facevano morire. C'era il logo di un'azienda produttrice di giocattoli per bambini, che era, questo logo era un faro che faceva dei giochi di pesca, era un faro che gettava luce, però questa figura stretta e lunga con due rocce sotto e questa luce gettata dall'alto, tutto sembra, Dario, tranne che un faro che illuminava. Sembra chiaramente un disegno da stazione o da muro dello stadio. Per dirti, su Topolino andavano, non è che andavano su Playboy, quindi ti fa capire quanto, e questa cosa mi fa impazzire. Poi mi piace guardare, ironizzare sulle serie TV, cioè riraccontare le puntate, o ironizzando su quello che di scemo c'è davvero nella puntata, oppure inventando mille cose perché farlo ridere. Questo l'ho sempre fatto, l'ho fatto sulle prime puntate degli anime, su tanti cartoni animati, anche sulle serie TV, non solo Game of Thrones, anche se è quella che mi sono portato avanti praticamente per caso. Ho iniziato a un certo punto e me la sono portato avanti fino alla fine, sostanzialmente. E te come hai iniziato ad avvicinarti a questo mondo? Non solo americano, perché te segui sia roba giappo che roba americana seriale, te come ti sei avvicinato? Da Ikeita soprattutto. Beh, sì, come tutti, essendo, ripeto, nato a quell'epoca mi sono puppato in pieno tutta la prima invasione degli anime giapponesi in Italia, nell'epoca in cui tu sei più piccolo, non c'eri, però sei arrivato subito dopo. Però non potevi non essere un appassionato di Giappone se eri un ragazzino italiano nei primissimi anni Ottanta, perché qualsiasi canale televisivo era invaso da produzioni nipponiche, centinaia e centinaia di serie, e non c'è mai stato in nessun paese al di fuori del Giappone, ma manco nello stesso Giappone una tale concentrazione di anime presenti a tutti gli orari, su tutta la serie di TV private, oltre che ancora sulla RAI, perché ricordiamo all'inizio degli anni Ottanta ancora c'erano i robottoni sulla RAI, Mazinga Z, Astro Robo, e quindi diventavi appassionato di Giappone. Ho incominciato a sognare, poi sono arrivati i videogiochi, o meglio i videogiochi giapponesi, perché all'epoca si giocava con il Commodore. All'arrivo delle console giapponesi si sognava questo mondo, ecco, il più grande rimpianto che ho e non aver mai visto di persona è il Giappone degli anni 90. Questa è una cosa che mi porterò dentro sempre. Sognavo di andare in Giappone il prima possibile, e purtroppo, cioè, sono stato fortunatissimo, perché per quello che faccio ci sono stato un sacco di volte, non tante quante te, ma tantissime, 18 volte, 19 volte, però la prima è stata nel 2005, quindi ho dovuto aspettare un sacco di anni. Da lì ci sono andato per lavoro, e ho iniziato ad andarci ogni anno per varie cose, prima, ripeto, per i viaggi per i videogiochi, poi per altre cose, anche per turismo, e queste cose si sono collegate a passioni che avevo, sono sempre stato un grande fan della Marvel, come sai, dei supereroi, e anche degli anime e dei manga, sono diventato un collezionista di retro gaming, di robottoni, di tanto altro pupazzame inutile. Volevo fare una domanda su quello, infatti, sul collezionismo, però prima voglio soffermarmi su questa affermazione, perché rimpiangi di non aver visto il Giappone anni 90? Secondo te è cambiato così tanto il Giappone rispetto agli anni 90? Sì, ma è cambiato tantissimo, anche rispetto a 15 anni fa. Il Giappone, dall'inizio degli anni 10, ma più o meno dal 2012, dal 2013, è diventato qualcosa di completamente diverso. Allora, rispetto a quello che era prima, il Giappone, come sai, come tu mi insegni, è un paese in continua mutazione, no? Quindi il Giappone di oggi non sarà lo stesso di quello che vedremo tra dieci anni, ma proprio fisicamente, uno va in un quartiere e non trova più i grattaceri, che hanno buttato giù tutto per la nota, per prendere la speculazione edilizia feroce, no? Poi si dice in Italia, no? E hanno ricostruito tutto, un palazzo arriva al padrone di casa e ti dice affettuario, felice affettuario, vattene perché devo buttare tutto giù, lo devo ricostruire con la scusa delle leggi sismiche che si aggiorna, no? E non solo trovi proprio lo skyline dei quartieri completamente cambiato, ovviamente, di determinati quartieri, ma cambia proprio il Giappone, i modi. Quando andai la prima volta era a gennaio del 2005 e era un paese ancora molto ostico per gli stranieri. Innanzitutto sarà che era a gennaio, non era il periodo di Sakura, ma non c'era un cacchio di straniero in giro che fosse uno, ma zero, zero. Andai lì per lavoro, dovevamo comprare anime, quindi ti lascio immaginare il primo approccio al Giappone in giro per case di produzione, tappezzate di anime storici per comprare anime da portare in Italia. E non c'erano stranieri, cioè eravamo gli unici ospiti non asiatici, perché c'erano degli altri paesi asiatici, a Lilton di Shinjuku, dove soggiornavamo. Gli unici. Tant'è vero che ci hanno portato una specie di port a questo collega. E in giro, io ricordo i primi viaggi, poi ci sono tornato nel 2006, nel 2007, quando incontravi tipo un americano, vedevi un altro gaijin, perché adesso con Google Maps, no? È facile, all'epoca ti perdevi per forza, perché è stata la prima volta, dopo tanti viaggi, che mi accorgevo che in un paese, anche consegnando al tassista il biglietto della tua destinazione con l'indirizzo scritto nella sua lingua, ti potevi perdere uguale, perché se non c'era la mappa, non sapevo, no? Ti perdevi uguale. E quindi vedevi queste persone che magari in mezzo alla strada cercavano di orientarsi ancora con la cartina, eccetera, ed era comune che tra stranieri ci si aiutasse, perché si viveva la stessa disperazione, che andava dal cibo alla cosa, nessuno parlava inglese, non c'erano traduttori automatici, molte stazioni della metropolitana non avevano i cartelli in romaggi, quindi ti lascio immaginare orientarsi nella metropolitana, cioè in tutto il sistema ferroviario di Tokyo senza cartelli in caratteri per noi. Era impossibile. E infatti sono finito a Yokohama. Ho preso un treno e sono finito a Yokohama. Ero convinto che fosse un treno locale e sono finito a Yokohama. E perché succedeva, cioè era impossibile. E quindi era diverso, si respirava ancora tanto. Però avventuroso, no? Anche più avventuroso, volendo. Sì, c'era quella cosa che tu entravi in un locale e mangiavi quello che trovavi. Davvero, perché non avevi, cioè, le facilità. Adesso il boom turistico che c'è stato ha facilitato tante cose, fortunatamente perché riesci a vivere tanti aspetti che prima magari non... Però è un paese diverso, lo era e chi c'è stato negli anni 90 e me lo racconta, anche perché era il periodo ancora del loro grande boom economico, la bolla e tutto, era un Giappone molto diverso. Cioè, quello che vedi negli anime del periodo, no? Il Giappone da bere. Certo. Per citare un vecchio slogan che riguardava Milano. Bellissimo quello slogan, tra l'altro che c'erano i weather report sotto, mi pare, a quello spot, se non ricordo mai. Sì, sì, c'erano loro. Fantastico. Te collezioni tanta roba inutile, proprio come me, insomma, siamo due probabilmente collezionisti patologici e va bene. E te sei più un completista oppure punti il pezzo storico, particolare, curioso? Io faccio tutte e due ormai, ormai ho perso completamente la brocca, però te invece sai come lo gestisci il tuo collezionismo? Allora, il Giappone da quel punto di vista mi ha rovinato, perché io ho sempre accumulato videogiochi, ma non li collezionavo, nel senso che li giocavo, poi le console vecchie, magari mi dicevi guarda c'è questo gioco che è uscito per Super Nintendo sette anni fa, io lo trovavo, me lo compravo e lo giocavo per gusto, ma non collezionavo le cose, cioè non avevo la cosa di completare niente. Andare in giro per i Mandarache, per i negozi di retro gaming, che un tempo erano molti di più di adesso, non c'erano soltanto i megastore, c'erano tanti piccoli negozi che vendivano retro gaming, mi ha spinto a comprare piattaforme che desideravo da ragazzino, non avevo mai avuto come il PC Engine, il Virtual Boy, a quel punto che fai, non ti compri tutti i giochi, che è una cosa impossibile, perché trovi giochi che costano 700 euro e 800, 1000 per un singolo gioco, e tutti gli spara tutto, gli spara spara per Dreamcast e così via. L'ho fatto per tanto tempo, adesso, vuoi per l'età, vuoi perché ho davvero non solo casa, ma intere soffitte piene di cose, non so dove cacchio mettere, o cosa farmene, e non te le go di manco, perché quando hai cose chiuse negli scatoloni non ne vale la pena. ci sono dei periodi in cui mi interessa una singola cosa e magari cerco più il pezzo che mi dà quell'effetto, che poi lo sai, il collezionismo è, la goduria è il tempo che passa tra l'acquisto e quando ti arrivi a casa. Ma lo sai che è vero, ma questa roba... 5 minuti, lo metti via ed è finito, no? Infatti, è il momento che ti scitofona il corriere, quello è il massimo del... Grazie, ma c'è, ma è da malati questa roba qui, però è vera, io sono l'acquisto. Stai lì col tracking, stai lì col tracking, cazzo è partito da Hong Kong, è partito da Hong Kong, quando arriva, la dogana, la dogana, ma perché la dogana ci mette così tanto? Cosa c'hanno di più importante del mio gioco da sdoganare, sti maledetti? Poi dopo, è partito dalla dogana, quanto ci metterà mai da malpensa ad arrivare qua? Arriva, ci toffano il corriere, massimo la saltazione, apri il pacco, dopo un po' è andata. Fini, basta, già finito, è vero, ora io ho preso, infatti la mia paura è questa, io sto facendo un investimento grosso, sto prendendo un Black Lotus beta, e... Ah. Ecco, quindi capisci bene, no? La carta delle carte, e io ho paura che me lo diano in mano, perché me lo vengono a consegnare, e poi lo guardo e lo metto nell'album e ho paura che finisca male così, cioè, cinque minuti, fine del Black Lotus, spero di no. Anche perché di tanto non ci c'è, non è. Però sì, dai, te lo incornici, te lo metti lì. io sto facendo la beta completa, quindi la devo mettere accanto ad altre carte, è un bel casino. E invece c'è un pet, ci sono delle cose che guardi e riguardi, nonostante il corriere te l'abbia magari già consegnata da tanto tanto tempo, c'è qualcosa a cui sei veramente affezionato e che mostri i tuoi amici, o che te sei intento a rimirare, qualcosa ce l'ho io in casa così, eh? Non sono cose che hanno particolare valore collezionistico, però sono pezzi che magari ho cercato perché mi interessavano, diversi artbook giapponesi che ho inseguito per tanto tempo, che non erano facili da trovare, perché come sai in Giappone quando le cose vanno surred out, il segno di Ultraman, le braccia incrociate sul petto, o li trovi sui vari sito d'aste giapponesi, auction, i mandare, eccetera. Però devi essere anche... No, scusi, c'è un po' di tosse. Ok, devi essere anche fortunato a beccarlo nel momento giusto, no? Perché a me è capitato una volta, banalmente, in Giappone cercavo una cosa e siccome ero lì per vacanza, andavo nei negozi, giravo i mandarake, tipo ogni due o tre giorni, anche perché stavo scrivendo un libro sui negozi nerd di Tokyo, e quindi ogni giorno praticamente finivo negli stessi negozi, facevo questa via Crucis in giro per i negozi. Cerco questo libro, lo chiedo in uno dei negozi di mandarake, credo a Nakano, e mi dice no, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, ci torno due giorni dopo e mi dicono l'abbiamo venduto ieri. Ho detto, senti, ma io ho parlato con te, uno di quei commessi stranieri che ci stanno, ho parlato con te, ma hai detto che non c'era. No, ma ieri mattina è arrivato, ieri pomeriggio l'abbiamo venduto, quindi io ce l'ho stato a distanza di due giorni, il giorno in cui non ce l'ho stato, era arrivato e l'avevano già venduto, quindi devi avere anche un sacco di fortuna a beccare i pezzi, però quelle cose lì mi piacciono anche perché l'artbook quando hai voglia di bello è un libro dello studio Ghibli che ti piace particolarmente, un libro di sfondi di Akira o di Ghost in the Shell vai lì te lo sfoglio e ti senti me. Mi fa quell'effetto, no? Che tra l'altro poi sono proprio il concentrato di quel Giappone anni 80 e anni 90 che sogno, che non ho mai potuto vedere, no? E quelle cose lì mi piacciono, mi piacciono alcuni giocattoli super vintage di quando ero davvero ragazzino, sai come funziona, più di ventivecchio e rincoglionito più ti piacciono le cose di quando eri più piccolo, perché senti che insomma era la vecchiaia che arriva, però determinati giocattoli che da bambino magari non mi avevano comprato perché costavano tanto, perché non si trovavano, il fatto di averli adesso, di averli potuti comprare nuovi che mi sono arrivati a casa ancora che gli adesivi da attaccare, quello mi genera un'emozione pazzesca, cioè la mia compagna che mi ha fatto una foto un paio di settimane fa mi è arrivato un castello di Grays con un nuovo a casa, c'è anche te sei fissatissimo, allora aprivo questa scatola, io l'avevo avuto ovviamente come tutti quelli della mia generazione, però la scatola è stata buttata dopo due secondi, il castello l'ha distrutto, avevo un fratello più piccolo anche l'ha stato distrutto dopo tre minuti, mettermi lì dopo tutti questi anni a riassemblarlo, stesso odore di plastica, mi ha fatto un effetto pazzesco, cioè che non mi hanno fatto tantissime altre cose, magari giochi da pezzi da collezionista davvero, perché magari l'ho comprati vent'anni fa, cioè giochi che sono usciti in Europa in quindici esemplari, perché mi andavano perché erano nella stampa e poi non li hanno prodotti più, e quelli sono robe che hanno un grande valore collezionistico, però non mi danno un cacchio, cioè perché un pezzo di plastica così, no? Beh, bellissima storia, e a me è ricapitato di recente una delle storie più belle, secondo me dei regali più belli che abbia mai ricevuto in, diciamo da adolescente, avevo vent'anni, è arrivato da mia madre, sorprendentemente, che è riuscita a farmi una mezza sorpresa, non è facile sorprendermi con dei regali, praticamente io da piccolissimo avevo, ci sono anche i video con le cassettine, mi è stato, io ero fissatissimo con l'Ispettore Gadget, è una serie americana abbastanza, di serie B, però insomma, ci siamo, siamo su quelli di lì, e praticamente mi regalò un pupazzetto con il windsurf, cioè il classico meccanismo, sai, butti all'indietro, e distrutto regalò, si, no, forse avevo 18, 19 anni, comunque ero ragazzino, e mi madre andò su ebay, una cosa assurda per quei tempi, sia per noi che avevamo un internet di merda, sia per lei che insomma non compra spesso su ebay, ora ha iniziato, e lo ritrovò, con la scatola e tutto, e me lo regalò per, credo per i 19 anni, una cosa del genere, e io, fu un'emozione assurda, non solo ritrovare quel giocattolo che avevo distrutto, perduto, eccetera, ma addirittura l'aveva comprato, ancora imballato, italiano, mi pare della GIC, quindi una cosa, un'emozione molto forte, è difficile spiegare questa emozione però agli altri, io a volte ci provo ma è dura, dura, durissima, oppure ti fanno il solito discorso, no, ma come fa una carta oppure un pupazzetto di plastica a costare 3, 400, 1000 euro, perché ci spendi i soldi? te sapresti rispondere perché ci spendiamo i soldi? Alessà? Per follia, penso che l'unica risposta è follia, se persone adulte, no, magari spendono soldi così, ma allora, fermo restando, no, che uno i soldi si riguadagna, poi ognuno ci fa quello che vuole, no, ci spende, non so, in abbigliamento, chi spende per comprarsi la macchina ogni due anni e chi spende incazzate come noi, però il discorso è che sono hobby, sono passioni, è uno, se qualcosa ti fa stare bene e tu non fai del male a nessuno per averla, perché no, cioè, non voglio dire, ci sono persone che hanno degli hobby che hanno un impatto diverso, tra l'altro qua non si tratta manco di produrre plastica nuova, l'inquinamento, perché sono cose vecchie che stanno in giro da 40 anni, quindi, ma eviti che finiscano nella natura in qualche discarica, quindi sì, no, a parte gli scherzi, è una passione come tante, no, però, se non hai quel tipo di attaccamento, di interesse per una cosa, è davvero difficile comunicarlo, perché poi ognuno ha le sue, no, c'è una persona che sono disposta a spendere qualsiasi cifra per vedere una partita di calcio, no, cioè la finale, io sono tifoso, ma non avrei mai speso per una finale migliaia di euro, perché per una partita ce la posso vedere anche in, lo so che è la stessa cosa, ma la posso vedere anche in televisione, c'è chi è disposto a farlo, ovviamente, no, al di fuori di qualsiasi cifra, cioè è disposto a dare tutto quello che ha, e ognuno ha ovviamente una sua scala di priorità, però alcune cose, quando poi trovi le persone che condividono i tuoi stessi interessi, lì è più facile già farle capire, no, quello, quello sì, bisogna spiegare tanto, no? Quello sì, quello sì, ecco, e a proposito di questo, dato che fai molte rubriche, ma anche molti pezzi, su film del passato, pubblicità del passato, giocattoli del passato, e dato che questo periodo è molto fertile per i cosiddetti nostalgici e per i prodotti ad impronta nostalgica, te ti definisci un nostalgico oppure sei uno che guarda con affetto le cose nuove, oppure con sospetto? Allora, per me la cosa, come dicevo prima, più importante di tutte, che mi portò, devi sapere che tra i tanti, cioè i tanti, tra i gruppi di hater che mi sono ritrovato, no, banariamente nel corso degli anni c'erano un gruppo di fan di Big Jim che detta così fa abbastanza ridere, Big Jim era un pupazzo, era l'equivalente maschile della Barbie che la Mattel produceva tra gli anni 70 e gli anni 80, e aveva la casa di Big Jim che era uguale alla casa di Barbie, se seguite i fumetti di Le Ortolani magari l'avrete visto, oppure insomma, immaginate un pupazzetto un po' più basso del Ken di Barbie, però che c'era tutti gli attrezzi, il camper, la motocicletta, e io scrissi un po', ironico in cui scrissi che era un pupazzino del cacchio che però aveva dei veicoli bellissimi e non l'avessi mai fatto, la gente si è incazzata, hanno detto chi è questo stronzo che scrive queste cose, ma come si permette, perché per me comunque la nostalgia la devi sempre abbinare a una dose di ironia, perché se no non, cioè, sono giocattoli, cioè io sono grande fan dei Masters, ma se devo dire che i men, quella era la storia scema del cartone animato, e non ci metto niente, perché è la verità, E bisogna essere onesti, perché non devi mai trasformare un affetto per le cose con cui sei cresciuto per un nostalgismo stucchevole o insomma con le fette di prosciutto sugli occhi, perché se no diventi insomma diventi un po' ridicolo, no? Che ne so, è chiaro che io non sono un grande fan di One Piece, ma Kia è un grande fan di One Piece, ha un approccio diverso rispetto al mio, che è un po' più obiettivo, no? Cioè nel giudicare la cosa non sono viziato tra virgolette da una grande passione per quella serie, la trovo divertente, ma non è la mia serie preferita, però questo non vuol dire che un appassionato non possa riconoscere che un determinato arco narrativo sia più bello di un altro, che un altro sia tirato pericato, ho fatto un esempio a caso ovviamente, non volevo parlare di One Piece nello specifico, chiaro, chiaro, e invece con tanti nostalgici c'è così, no, non devi dire che questa cosa era brutta, sono un nostalgico dei Cavalieri dello Zodico, non devi dire che i Cavalieri dello Zodico avevano le puntate filler senza senso che disegnate pure male, è così, bisogna essere onesti e se sei onesto apprezzi il bello e sorridi di quello che era brutto ricordando che quando eri bambino ti piaceva uguale, no? Altrimenti non avremmo visto 50 puntate dei Cavalieri dello Zodico tutto uguali tra loro, ci sta quello che oggettivamente devi riconoscere come bello, capolavoro, eccetera, è quello che invece per te ha un valore affettivo ma non necessariamente e quindi secondo me l'approccio è l'ironia, i prodotti nuovi per me la tecnologia nuova mi manda i matti, non è che sono uno che usa le VHS a casa, però i prodotti del passato se hanno un qualche legame, una cosa che mi desta un qualche tipo di emozione mi interessano, altrimenti no, cioè il mondo va avanti e pace. E secondo te perché cosiddetti girellari o comunque nostalgici non riescono a superare il preconcetto che è beh, dopo Dytan 3 non è stato fatto più niente di bello, cioè perché non riescono ad abbracciare il futuro e che hanno paura di diventare vecchi? Cioè qual è il il loro problema? Un po' quello, ma soprattutto perché le cose sono sempre più belle nel ricordo di come non fossero in realtà, no? In America richiamano gli occhiali a lenti rosa della nostalgia che insomma ti fanno vedere tutto con occhi diversi. quando lanciai sul blog questa rubrica che si chiama la prima puntata non si scorda perché uno si ricorda le prime puntate degli anime soprattutto ma anche dei cartoni americani in un certo modo perché hai un'idea spesso idealizzata delle stesse cose. Allora, visto che sono semi-anziano Jig è ovviamente uno dei miei robot preferiti però io mi sono rivisto tutta la serie l'anno scorso due anni fa quando ci temburei e metà delle puntate non si possono letteralmente guardare per quanto sono disegnate male. Ti accorgi che non solo era un prodotto dozzinale che dovevano buttare avanti con i ritmi forse nati di produzione che ben conosci i scioperi degli animatori e tutto il resto ma che era disegnato male perché non era neanche un prodotto di punta però nel ricordo di tutti era una serie bellissima fino a quando non la vai a rivedere ed è il motivo per cui determinate cose probabilmente sarebbe meglio non andarle a rivedere dopo tanti anni vale un po' per tutto però non tutto invecchia bene però c'è chi è convinto che poi trovo sempre molto stucchevole anche questa cosa che tutto o è fedeltà totale alla vecchia linea o è tutto schifo quello che c'era prima tutto boomer è bello soltanto quello che è nuovo ci sono cose belle brutte di sempre ci stanno capolavori dell'animazione che hanno 80 anni e serie anime schifose che sono uscite ieri dipende ovviamente sempre nello specifico ragionare per assoluti non ha secondo me alcun senso ci sono doppiaggi storici che sono molto belli proprio per il tema dei girellari e altri che erano totalmente inventati che non ti facevano capire niente hai fatto l'esempio di Titan 3 non ti facevano capire niente di quello che stavi vedendo che cambiavano il senso di un finale ed è interessante che su alcune piattaforme di streaming ora presentino i vecchi doppiaggi come versione vintage oppure doppiaggio storico perché se ti piace quello e vuoi sentirti per forza quello te lo guardi se vuoi guardarti Gundam e chiamarlo Gundam e sentire Peter Ray con quelle voci dell'epoca te lo guardi se preferisci Gundam e Amuro ti guardi quello nuovo che è più fedele all'originale così soccontenti tutti sostanzialmente però tanti credo si chiudano proprio al riccio quando senti dire le serie che guardavamo noi erano più belle erano tutte più belle di quelle di oggi che dei bambini di oggi guardano solo porcherie o per i bambini piccoli fanno solo porcherie non è mica vero io ho una figlia di 6 anni e ce ne stanno di serie belle per i bambini di quell'età così come ci stavano serie belle per noi ma anche tante porcherie io ricordo tanti cartoon americani che erano davvero inguardabili che arrivano su Italia 1 negli anni 90 però c'era quello e ti guardavi quello adesso c'è tanta più scelta quindi spesso è un discorso fatto da chi davvero si vuole chiudere al riccio perché la nostalgia è bello insomma lasciarsi cullare dalla nostalgia e non guardare le cose come stanno eh sì secondo me è un è proprio come fare cioè fare come gli struzzi e si stanno perdendo tanta 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 bella roba preferiscono che guardassi Capitan Harlock tutto rispetto per il maestro Matsumoto e Capitan Harlock ovviamente però preferiscono rivedersi la prima puntata di Vela a diritto pur di non sforzarsi a vedere che c'è altro c'è tanto altro posso dire una cosa Dario guarda hai fatto l'esempio di Harlock secondo me l'esempio perfetto perché un personaggio che è stato rivisitato in 50 chiavi diverse 50 versioni mai collimanti sequel che non erano sequel prequel che non erano prequel ok prendi Sheera no abbiamo parlato dei masters presenta Netflix la nuova Sheera levata di scudi io scrissi mi ricordo beh si vede che ha un design più giovanile punto tanti scrissero che era una vergogna che era sta ragazzina con i ciclisti ma che cioè Sheera la serie degli anni 80 è una cosa come la serie filmation dei masters che con tutto l'affetto del mondo è una roba inguardabile c'erano tre animazioni in croce perché le facevano in super economia le storie erano risibili la serie di Sheera moderna è una serie scritta molto bene che per il suo target principale che sono ragazzine e ragazzini di 12 13 14 anni è una serie fantastica tanta gente non l'ha voluta vedere perché no che tutto ciò che è nuovo ti chiudi al riccio i sequel fanno schifo i remake fanno schifo i reboot non se ne parla eccetera poi esce non va bene niente poi esce Mad Max Fury Road ah no quello è bello beh pure quello cioè quello non vale più il ragionamento le cose si giudicano quando le se ti va di io poi capisco chi dice no senti io di Alien ne ho visti già tanti non mi interessa vederne altro sto a posto così Terminator dopo Terminator Genesis ci ho litigato non ne voglio vedere altri ok però giudicare le cose che è un po' lobby dell'internet prima di vederle e non limitarsi alle prime impressioni no magari ho visto il trailer mi dà queste vibrazioni no proprio questo sarà una schifezza perché o sarà un capolavoro perché serve a niente no cioè aria fritta senza scordarsi come ho detto tra l'altro ieri che i trailer non sono anticipazioni ma sono pubblicità cioè invitano il pubblico ad andare a vedere il film quindi la gente li vede come un dono dal cielo ah grazie Disney che ci dai questi trailer ma lo fanno per vendere per farvi iscrivere anche alle loro piattaforme insomma dato che magari molti non hanno visto mai un tuo pezzo ho deciso ti ho proposto anzi di mostrare ai nostri ai nostri amici diciamo gli articoli che tu reputi più divertenti o più strambi per far capire cosa tratti sul tuo blog e quindi ti chiedo cosa cosa ci mostri cosa ci hai portato ecco così sono tutti contenti con questo verbo fantastico allora ce n'è uno fresco fresco che di ieri che parlavamo di telefilm e di nostalgia e di occhi foderati di prosciutto in realtà che Dawson Creek fosse una serie parecchio stramba già all'epoca era abbastanza evidente però mi sono andato a riguardare la prima puntata visto che sta ovunque qualsiasi piattaforma apri c'è sta cacchio di Dawson Creek che esce il tasso di follia che c'era dentro era abbastanza pronunciato questo tra l'altro è uno degli standard del blog cioè uno dei format più utilizzati del blog cioè quello del riassuntone prendo la cosa la guardo e faccio le catture e scrivo scena per scena quello che che sto vedendo con tutta una serie di gag eccetera ma questo è talmente scemo come prima di scemo è talmente pieno di cose ridicole che si è scritto praticamente da solo cioè non ho dovuto inventare niente tu lo guardi ed è pieno di cazzate allucinanti c'è lei che fa le pacce strane c'è sta cosa che quella gli entra alla finestra che lasciano le luci accese sopra una palude del cacchio dove abitano e lei che fa poi tra l'altro col senno di poi sapendo che cosa succederà dei personaggi lei che dice che durante il sonno allunga le mani e quindi sa che sono cresciuti perché a lui sono cresciuti i genitali questo che è diventato un meme si è tutto così soprattutto alla fine c'è sta cosa fantastica che lei gli dice scusate che vado veloce perché se no sono solo 50 foto c'è questo che era il padre che faceva il flash negli anni 90 poi sarebbe tornato a fare flash tanti anni dopo e che qui fa il povero tizio tradito dalla moglie che sta a giocare con le bamboline che ti fa capire tante cose ma soprattutto c'è questa discussione allucinante alla fine lei che è la ragazza arrivata da New York e quindi insomma vista come una rivale la professoressa che c'ha 40 anni che bacia quello che ce n'ha 15 tanto per capire ah sei proprio pedofilia così al volo vabbè dice questa cosa ma tanto tu non sei un ragazzo che non significa niente e soprattutto c'è lui che è super fan di Spielberg lei Joy che si nasconde nell'armadio tipo Super Vicky la bambolina robot e siccome sono cresciuti c'è tutta questa pippa che loro per introdurre l'argomento c'è tutta questa pippa che loro non sono più come erano quando erano bambini a 7 anni che dormivano assieme perché lei è grande ed è infatuata di lui e lui non se ne rende conto gli dice guarda non possiamo parlare più di queste cose tipo lui dice ma non ti capisco perché lui è deficiente no non capisco cosa vuoi dire ma è cresciuto il seno non ti capisco e lei dice senti ma quante volte giochi con il tuo gioiellino a che ora lo fai quante volte a settimana giuro eh con il tuo gioiellino gli dice con questa terminologia qua in italiano con il tuo gioiellino è proprio la battuta che lei fa nella versione italiana e qui ci ho fatto la gag che lui continua a non capire e lei va il nano quante volte lo strozzi eccetera e vabbè questa è la gag che ho aggiunto io ma in realtà lei se ne va perché lui non vuole rispondere a questa domanda cioè perché lui gli vuole dire quante volte si masturba quante volte si masturba allora c'è sta cosa che lui sbatte la testa contro il poster di Schindler's List di Spielberg tra l'altro c'ha il la fotografia di Spielberg accanto quindi probabilmente quella è la sua fonte di ispirazione lui sbatte la posta e lei corre via per buttarsi nel fiume nel lago se non che lui si affaccia alla finestra e dice lo faccio di mattina di solito con Sharon Stone e lei è contenta e finisce l'ha puntata cioè per dirti questo allora seriamente lei si incazza perché lui non gli dice quante volte si fa le segre lei si vuole buttare nella palude e lui gli vuole andare in realtà a prendere la barca e a tornarsene dove abita via fiume che è Venezia cioè vabbè è una cosa è perché è questo per dirti però questa era facile perché si è scritta praticamente da sola vi voglio far vedere a proposito di pubblicità forvianti questo è un giocattolo che si chiamava il coso che era un ciocco di legno con queste parti che si poteva piegare tra l'altro assumendo anche delle configurazioni un po' particolari sembra il 69 sembra il 69 immaginate i pubblicitari che si sono messi in lato dobbiamo creare un gioco di mobilità creativa come lo chiamiamo ma sto coso chiamiamolo coso potevi fare la carriola tutto il 69 la carriola la foca la ratro ci sta tutti i passaggi un concorso dove si vinceva degli orologi in cui si vinceva un pappagallo vero perché si poteva ancora cosa vinci con questo compra un orologio di questa marca qui famosa e vinci un pappagallo poi è bello perché la Braille aveva fatto questa roba sì la Braille la Braille eccolo monta monta la era un inno a non utilizzare la contraccezione probabilmente cioè è una cosa vabbè poi dici magari uno lo sai è più smaliziato però io non lo so tu vedi sta cosa per polsicada di questo che fai il gesto il gesto col polso portato in avanti col polsino che cosa c'è non pensi subito che è una roba del motorino no no non sembra una roba del motorino è arrivato l'elicottero chi fa la gala a chi lo lancia più in alto erano tutte così vedi gioca con i tuoi amici a chi lo lancia più in alto e più lontano quest'altro che si chiama gioco di mano per dire era una pubblicità di Toppolino ecco questo è questa va bella la fiesta questo è il logo di cui parlavo prima cioè dimmi che ti sembra dimmi che ti sembra è un cazzo è un cazzo sì sì assolutamente sì è un po' così bello questo sembrano i preservativi attaccati alla cintura per le tue avventure infatti c'è scritto Billy ti regala porta Billy la cintura per il tuo Billy di scorta la cintura per il tuo Billy di scorta vabbè raga ma è troppo così si chiama Marco e ti scrive una lettera anonima perché ti ama vabbè anche questo sembra un cazzo è un maniaco che l'hanno arrestato vari bambini bambolotti ovviamente politicamente corretto non esisteva quindi c'erano parole di tutti i tipi ma c'erano anche frasi sessiste di tutto questi sono i masters a proposito e guarda che pubblicità grandiose dei masters i men l'uomo più forte dell'universo che sta a dormire con la testa sullo scudo si scapisce bene perché quest'altro Ram è l'uomo ariete questi che sembrano Totò e Peppino Skeletor e Beastman qua che sembra tutt'altro commettiamo che per un po' gli passerà la voglia di fare il cattivo sarà anche per gli occhiappalla di Merman però sono uno l'uomo pesce e l'altro l'uomo ocello tra l'altro vorrei vorrei sottolineare questi che fanno la gara di schiacciapollicione dopo aver sconfitto i nemici il magico mondo degli anni ottanti questi che hanno un rapporto completo sull'ottovolante dell'Andia ma hanno fatto migliore io ho capito che devi comunicare le montagne russe sugli anni ottanti era tutto così queste sono alcune delle pubblicità più allucinanti erano degli anni settanti le pubblicità di una pista polistil era una famosa marca di automobiline e ci sta sta mamma scoglionata un bambino legato a una specie di sedia di ferro con delle corde perché non si sa non lo sa nessuno ma poi è psichedelica è psichedelica totalmente anni settanta questa roba assolutamente hanno comprato dei set di foto così e ne hanno utilizzate bravi azzurri grazie per l'indimenticabile successo di messico settanta dove abbiamo preso quattro pere in finale dal brasile però questo l'hanno scritto come fracassare una politoist questo c'è questa degli occhiali da vista non si sa tu dici ma qual è il senso non si sa guarda questa pubblicità no dai questo no il formaggio Samus 99 che sembra una cosa un materiale dopo l'uranio no una cosa all'uranio impoverito più che altro in questo periodo le confezioni di Samus hanno davvero una faccia simpatica simpaticissima guarda guarda per niente inquietante o in castellero Ger Rabbit una linea di pupazzi che si chiamava Yoko Yoko pelo caldo con un firmentai un firmentai queste bambole dell'orrore che soltavano fuori dappertutto quando le vedi in bianche e nero ovviamente sono pubblicità molto vecchie sono anni 60 tutti vogliono pratolina peraltro tutti la vogliono tutti vogliono pratolina l'unica l'unica cosa di Star Wars dove Yoda parla quello parola è l'ordine ma poi non credo stia parlando non sta parlando di un Jedi però in realtà no no a parte no a parte no però anche se rivolgeste al giovane Jedi nel senso che il parawan è il lettore però ha imparato a parlare è un po' così è un po' così era pieno di questa voi amici giovani sappiate che per noi degli anni 80 un gioco era comprare il DAS che poi si è scoperto che conteneva pure amianto tra l'altro almeno qualche anno prima che era sta plastilina grigia e farci una trota c'era il model fish system scritto system con la i tra l'altro non manco con la i dovevi costruirti una trota ad appenderti in casa la verniciavi ma cosa serve cioè non è una cosa bella da far vedere in casa secondo me però vabbè cos'è sta roba via di qui bullismo contro gli additivi vedi ci sono il grano le uova e il latte che si organizzano i manganelli fascisti proprio un gioco polistilo un gioco elettronico proprio questo è proprio decubertin lo sconfitto non viene in riso per nulla il testo non ha senso quando conta solo l'abilità non la forza non solo la forza ridaglie la cosa delle parentesi che si portava tanto per dare un senso che uno stava lì a pensarci ma forse ha un doppio senso che io non ho capito no ci buttavano le parole tra parentesi questo lo scrivito era famoso lo scienziato pazzo perché ci fuono tante polemiche non si sa quanto vere quante tante leggende metropolitane su questi giocattoli dovevi fare la vivisezione all'alieno ovviamente c'erano armi giocattoli questo che è una cosa bellissima attenzione pubblicità di Pennarelli Pennarelli Pongo le salsicce e la mortadella sottovuoto le hai già viste noi abbiamo messo sottovuoto i fibra lunga Pongo cioè il concetto era che questi Pennarelli non si seccavano però c'è scritto le salsicce e la mortadella e ci sono il salame e i wuster hanno trovato manco delle salsicce e della mortadella vere cioè ci sono degli altri tipi di salumi per dirti era tutto così era tutto così cioè questa è solo una selezione ma è tutto così non finisce mai ed eccola qua che vanto è aver messo sottovuoto i fibra lunga Pongo cioè non è che sia un'operazione impossibile c'è la sbarco Normandia ecco però la mia preferita di sempre c'è un amico col quale potete passare anche voi ore meravigliose il vino io non aggiungerei altro non aggiungerei altro cioè davvero tutti quei poveri ragazzini che davvero un problema reale e questi e perché così tu dici non lo sapevano non si rendevano conto non lo so però era era terrificante ovviamente ne ho fatte tanti questo è Chuck Palahniuk che mi bagia un orecchio ma quella è una cosa di tanti anni fa ne ho scritte tantissime di questi di questi post perché c'è un mare di topolino tra l'altro distrutti per fare le scansioni perché dovevi aprirti ah quindi personalmente li hai li hai spaccati li hai scannerizzati ah grande fasciati tutti quindi a centinaia ho distrutto tre scanner in questi anni a furia di fare le scansioni ora non lo faccio più tanto spesso anche perché ho davvero fatte annate intere di topolino però la cosa bella è che tu pescavi un topolino qualsiasi anni 80 questo per esempio non ne pesco il primo che sì questa era la pubblicità dell'Eldorado di Iacoviti agosto 1980 quindi c'erano i giocattoli belli il clone di Mazinga per pubblicizzare le penne a sfera guarda che tarocco di Mazinga perché si portavano i robot giapponesi che fai non ti inventi un robot giapponese per una penna a sfera cioè una penna a stilografico c'è un po' le corna di Goldrick un po' tutto è un po' un misto un po' un mix molto Goldrick ovviamente perché Goldrick ha sempre il capo stipe prego notare che è l'unico robot con le unghie l'unico robot giapponese con le unghie qui c'ha sul pollicione c'ha le unghie ma perché che schifo le unghie di metallo non ha senso giocare o collezionare giocare o collezionare o perché non tutte e due le cose parlando dei fucilini del far west a proposito di Rocco Tanica poi i fucili che formano la W di west è bellissimo sì poi magari questo è quello che è saltato fuori ecco le pubblicità delle serie animate dell'epoca e c'erano dei giocattoli completamente assurdi ma qualche qualche autore di Topolino ti ha contattato qualche editore sì allora tante persone che lavorano tanti autori di storia di Topolino li conosco li ho conosciuti negli anni nelle fiere anche l'ex direttrice parlamo delle pubblicità perché ovviamente sono contenuti che andavano su Topolino però ovviamente erano completamente indipendenti dal lavoro redazionale anche per chi già all'epoca realizzava storie perché erano comunque pagine redazionali che piazzava la Mondadori che era all'epoca l'editore di Topolino prima dell'arrivento della Walt Disney in Italia il che spiegava perché su Topolino ci fossero le pubblicità che non c'entravano assolutamente nulla con i bambini vuoi arruolarti nei carabinieri cazzo ho dieci anni mi devo arruolare nei carabinieri pensa a fare una carriera in marina e tu dici come le pubblicità delle automobili perché una pubblicità io capisci il motorino ma l'automobile perché erano la raccolta pubblicitaria per le riviste Mondadori era quella e quindi determinati contenuti magari per cubare come si sarebbe detto anni dopo su internet e le buttavano dove c'era spazio l'effetto che fa andare a recuperare queste vecchie cose è che alcune tipo queste sono davvero orribili altre ti rendi queste le bambole di candy candy c'era alcune anche se non te ne fregava niente magari è una bambola con cui ci giocava tua cugina più grande eccetera e quindi comunque l'effetto sorpresa te lo fanno questo è il famoso Big Jim mi ha portato le minacce da parte dei fan di Big Jim che non sopporto io schissi che era un capabomba orribile cioè il bambolotto non si poteva guardare e questo è sostanzialmente quanto questo è un caso famosissimo era l'ufo solar era una busta della spazzatura un sacco della spazzatura nero come si usava all'epoca gigantesco e tu dovevi riempire d'aria e farlo e farlo stare al sole l'aria riscaldandosi avrebbe fatto volare sto coso e loro ti dicevano che poteva raggiungere 10.000 metri d'altezza c'è scritto senza poter esagerare e poi sono stati proibiti perché alcuni effettivamente raggiungevano praticamente la luna o salivano al di fuori nella troposfera e quindi sbattevano contro qualche disco volante vibra ondeggia si innalza eppure qua pure qua volendo fare i maliziosi sì sì sta roba che la poi è il momento della partenza cioè con questo affare che sembra un cazzo madonna ma a diritto cioè le facevano ecco fiorellone il caldo questo è già una cosa 1994 quindi baggio ai mondiali il sogno mondiale tutte le pubblicità che portavano sfiga e Bull Boys sì questo già magari Marco Butler che ricordi Tania Supercamper stranamore tutte quelle cose lì le videocassette con le copertine orribili di Lupin tanto per dirne una o il Super Mario Show che è una cosa allucinante dinosauri pietrificati altri giocatori io qua già ero grande giocattoli già non ne collezionavo ne compravo più sarei tornato a comprarli un po' i Power Rangers però vedere queste pubblicità comunque mi fa ridere anche perché è davvero cioè ripeto il discorso è tu prezzemolo il discorso è tutto se le vivi con il piglio giusto che insomma ti ci fai una risata va bene così va bene così anche se sono cose che non hai vissuto dire che cosa aspetta torna un attimo su micro robots questi forse no non li so non ricordo bellini però erano dei cazzini trasformabili sì però non li ho visti molto in giro questo Mighty Max era Mighty Max era molto top top the top ganzissimo secondo me ok questa è una pubblicità inquietante della Playmobil con i bambini calati all'interno della foto tra l'altro una cosa bellissima cioè tu dici i tedeschi molto efficienti per mettere più mezzi possibili guarda i soccorsi si intralciano ambulanza si moriranno tutti si moriranno tutti bruciati là dentro e vabbè tra l'altro qua c'era Beppe Fiorello che era ancora Fiorellino e vorrei dire a chi non ricorda che Beppe Fiorello prima di interpretare Beppe Fiorello che interpreta chiunque nelle fiction Rai era Fiorellino perché all'epoca non lo sapevo e questo è il repetto che insomma è un po' il simbolo dell'epoca e balla sulle note nord sud dovestest questo grande successo degli anni 90 e invece di giapponese hai qualcosa cioè di tipo di robe strambe giappone allora sì a parte gli anime tipo ripeto i riassunti delle prime puntate degli anime ma un po' di tutto anche perché ripeto sta roba è qui dal 2007 quindi ci stanno i resoconti dei viaggi in Giappone quando vado in Giappone adesso non scrivo più tanto come un tempo perché magari posto qualche foto su Instagram non sto a scrivere però negli anni di Giappone ho scritto davvero il mondo questo per esempio un post che ho scritto durante l'ultimo viaggio novembre ottobre del 2019 perché poi ovviamente nel 2020 non ci sono andato e le cose pazzesche che ho appreso durante l'ultimo viaggio cioè questa è una cosa che mi porto dietro da più di dieci anni cioè ogni viaggio aggiungo le cose nuove che ho imparato tipo imparo 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 però del Giappone tipo il fatto che il Rocchetto Punch è questa cosa che gli unici cioè i giapponesi non sanno niente dei robot che noi amiamo perché ovviamente Daitan 3 è passato liscio come l'acqua non si è cagato nessuno Jig ha avuto un impatto molto limitato eccetera però se dici che ne so se dici Mazinga Z ovviamente di quelli che hanno una certa età oppure qui c'è un fumetto di Pinocchio che costava 200.000 yen tanto così per gradire una delle cose più allucinanti è vedere quanto può costare un singolo pezzo prima parlavamo di collezionismo che è un fumetto da 200.000 yen così lo sai Alessandro che quel fumetto è lì da almeno perché io me la ricordo sta vetrina so dove è credo sia Anacano è lì da due anni è la prima edizione del Pinocchio di Tezuka del Pinocchio di Tezuka 1600 euro ma tanti pezzi da super collezione Anacano Broadway o comunque in altri negozi sempre della catena Mandarache li vedi lì da 10 anni da 15 anni perché non se li compra nessuno sono come quel quello però non è in vendita come il Tetris per Mega Drive che c'è in uno dei negozi che sta lì perché è un pezzo unico secondo me è vuota la custodia anche secondo me però questa è una delle scene più allucinanti allora in come poi ovviamente ne parlo con te però in tanti anni di viaggi in 16 anni di viaggi in Giappone ne ho viste ovviamente in tutti i colori però quello che ho visto quel giorno qui è stato a Kamakura è stato uno degli esempi perfetti del perché il Giappone sia un posto così meraviglioso e terrificante insieme cioè io certe cose le puoi vedere solo lì cioè a me solo in Giappone è capitato di lasciare una macchinetta fotografica in un taxi e che il tassista che era a 30 km di distanza si è tornato apposta per portarmi la macchinetta perché il suo malvagio sedile se ne era impossessato è deciso scusandosi e ovviamente non c'è stato verso di pagare non dico dargli una mancia sarebbe stato offensivo ma manco di pagare gli la corsa perché banalmente l'ha dovuto tornare però ho visto delle cose sì lo sai meglio di me l'iPhone è un riporto era dato a fanculo chissà dove è ritornata la caserma di polizia scusarti con l'iPhoneino scusarsi perché il suo sedile malvagio te l'era questa è stata una cosa ti giuro guarda sono morto cioè io e i ragazzi che erano con me sono stati lì a filmare a farci le storie allora succede che a una turista cinese cade un cappello sulla ferrovia lì di Camacura allora non c'erano treni in arrivo dalla banchina al binario c'erano 30 cm statizia fa per avvicinarsi per prendersi il cappello vede che non arrivava nessuno era comunque lontano anche dal binario era solo sulla ghiaia arriva il tizio le fa e no no non si può è vietato e le indica il cartello dove sul cartello ha visto quei cartelli quelli con la manona allungata infatti io pensavo non esistesse io ho detto ma non esisterà questa roba qui del cappello cioè proprio la manina col cappello sì allora tu dici allora che cosa fa lui prende la manina allungabile e le prende il cappello e no perché prima prende un tablet e controlla la posizione dei treni mi devi credere il primo treno è arrivato noi siamo stati lì ad aspettare era indicato per 20 minuti dopo 15 minuti dopo cioè comunque non era capito la metro una delle linee ferroviarie all'interno di Tokyo dove i treni passano ogni 3 minuti stavamo lì ad aspettare il treno quindi prima controlla che non ci siano i treni in arrivo poi si va a mettere il casco antinfortunistica e il girettino questo qua catarifrangente poi va a prendere la cosa segna su un blocchetto tutta la procedura prende il cappello lo porta all'interno dell'ufficio si sveste ricontrolla col tablet chiama la tizia le fa compiare un modulo e le restituisce il cappello il bello è che noi siamo stati sul treno e abbiamo visto questa che guardava il treno che si allontanava perché ovviamente le ha fatto perdere il treno per fare tutta questa roba qui per renderti conto no? perché la sicurezza come ho scritto viene prima di tutto vabbè i gashapon assurdi ehm l'eng sì ma è nata international l'english il boss stop il primo bilboia che insomma è la mia mascotte che mi porto in giro e porto in giro vabbè ovviamente le cose finto italiane e così via e il sacchè della morte cioè aspetta questo mi interessa il sacchè della morte eh non so perché c'era sì c'era questa marca con le cape di morto non era molto bello però cazzo mi piace erano molto belle le bottiglie sì le calde arroste che sono un bene di lusso molto più che in Italia perché sai immagini a via del corso comunque sono carissime lì infinitamente di più le ha mangiate le calde arroste in Giappone sai che credo di no io e Agnese ci siamo fatti coraggio e le abbiamo assaggiate ti giuro Ale non sanno di niente strano eh ma che cosa mi dici mai delle cose belle a vedere sì che non sanno di niente non l'avrei mai detto niente non sanno di niente non l'avrei mai detto come la frutta anche quella fresca più è bella e più non si ha di una mazza vabbè questi sono i Transformers i Transformers Tarocchi il mio grande amore vabbè Dedi che era tra l'altro all'interno di un museo dove andava a vedere una mostra sul ricollocamento professionale dei samurai in epoca di pace c'era questo questo poster per l'anniversario che sarebbe stato di lì a poco nel 2020 e il Gundam nuovo vabbè le cravate di Street Fighter che succede sì tra l'altro con le facce alcune erano normali altre avevano le facce dei lottatori di Street Fighter 2 in versione pestata no? quando c'è il continue alla fine del round perché uno si dovrebbe mettere la faccia con Honda o Dalsim tutto acciaccato non si sa perché è il Giappone le maschere facciali quelle di Oscar perché le maschere di bellezza con i personaggi di piangere degli shoujo ovviamente funzionano di più ma anche con quelle di Kenil Guerriero no? perché no? è un po' così questa è una cosa bellissima perché i giardini che sembrano fatti giardini dei templi hanno quei manti erbosi pazzeschi questo era il Kinkakuji a Kyoto e dici sono così belli che sembrano fatti pezzo per pezzo a mano è vero è letteralmente così lo stavano rizzollando tipo San Siro dei bei tempi dei brutti tempi pezzo per pezzo le pubblicità vabbè di Heidi che si ciacca le mani dentro la porta nel treno Heidi scritto così vabbè le cacche vabbè queste sono le minchiate di coso di Daiso una serie di manga su Putin molto famosa come si poteva vincere il papazzetto di Putin quello che cavalca l'orso perché? perché sì Silvio Berlusconi ai tempi in cui faceva i vasi in cappone bello è vero sembra lui davvero sì questa cosa molto spirituale dei templi che hanno i gadget di One Piece e di Topolino anche dei Pokémon monetizzano su tutto su tutto non ne frega niente il buddismo ti dice vendi i gadget di One Piece questo era un coso della i tour della Sunrise con i ninja ste cacchio di bibite maledette che ogni volta sperando di trovare la lattina che mi piace ci butto soldi poi invece di uscirmi la lattina figa di Amoro mi esce la bibita al caffè Georgia normale blu è un concorso segna bello però guarda lo sguardo di Amoro mamma mia questi sono ovviamente i cervi molestati a Nara il concetto molto leggero di strappo muscolare con i capi che si strappano per farti capire e poi il mio grande amore su Piedamen al modico prezzo di 150.000 yen per dei dibutiti in merda perché quello quello c'è insomma a proposito di cose che vedi sempre uguali nei cose vabbè questo è Mr. No che sembra una cosa porno chi conosce l'uomo tigre sa che cos'è e nè Pornik per quel discorso dei nomi che riecheggiano quando vedi le cose come non andare a prendere un caffè da Pornik no? certo e questa è la povera statua di gioco quella che ben conosci a Nakano Brody vicino a Nakano Brody che hanno lasciato lì non solo a sbiancare come bianca cenere sotto il sole ma gli hanno appeso pure il divieto di fumare al collo così per strage ecco sì è la fine di un eroe perché è così e insomma sì comunque cose sul Giappone ne ho scritte tante nel corso degli anni perché ripeto mi fa sempre quello non so a te ma io ogni volta mi fa lo stesso effetto comunque non c'è più la novità chiaramente però mi trovo a girare soprattutto quando giro da solo mi fa quell'effetto ancora di insomma di magia di cosa perché io penso che proprio per il fatto che dicevo all'inizio che il Giappone che sognavo non l'ho mai visto alla fine è una cosa che cerchi in quello che c'è oggi cioè mi piace girare per Shibuya e vedere grattacieli nuovi però mi piace ancora di più quando trovi una libreria dove che sta lì da chissà quanto tempo e ti fa respirare letteralmente insieme a tonnellate di acari anche il Giappone di un'altra epoca non per nostalgia ma perché ti immagini che se quella roba c'è da da prima cioè è di epoca Showa è effettivamente come era un tempo no? è quello che racconta Igor nei suoi quaderni giapponesi no? che lui essendo più grande di noi cerca un Giappone che non c'è più degli anni 60 70 a me quello degli anni 90 fa lo stesso effetto ed è un peccato perché ovviamente per quella che è la mentalità giapponese che tutto si rinnova che tutto quello che c'è di storica non è storico manco per un cacchio perché i templi li smontano e li ricostruiscono perché così è meglio e rimangono belli sempre ovviamente tante cose si perdono però quell'atmosfera che quando ti trovi che ne so non dico a Omoide Yokocho in mezzo ai turisti però nel localino con i i menu appesi con i bannerini di carta e ti trovi a brindare con quelli che stanno seduti vicino a te quella roba lì è davanti alla tazza di ramen fumante quella roba lì è il Giappone che ancora mi piace tanto insieme a poi insieme a tutti il resto e grazie Alessandro è un periodo dove non voglio tornare a Tokyo in nessuna maniera in Giappone in generale in nessuna maniera non ci stai mettendo assolutamente il dito nella piaga tra l'altro guarda il fatto che è chiuso non si può manca a dire sai io ci vado tre settimane mi faccio due settimane di quarantena la follia ci sto un mese no niente non si può proprio quindi però sai io ogni volta c'è il momento in cui magari sono stanco durante un viaggio e mi dico sai che c'è magari per qualche un paio d'anni anche basta no voglio vedere altri posti nel mondo e poi il mese dopo già ti manca perché tra l'altro quel clima di quella cosa che là ti senti sicuro che vai più tranquillo di quando non solo per una questione di sicurezza personale no perché sai che ci sono determinati punti di riferimento no e che puoi mangiare a qualsiasi cuore in determinati posti eccetera quello è bello perché ti fa sentire cioè io a volte non lo dico sembra una cosa da sborone ma mi sento più a casa a Shinjuku che non a Cosenza perché è la mia dimensione no nel senso che comunque ci sono tante cose che mi piacciono e so dove trovarle so che posso fare esattamente quello che voglio quando voglio in quel posto e ovviamente in una città piccola tanto più in una città piccola del sud non lo puoi fare ah scusa mi hai fatto in mente una cosa anche a me scusami scusami abbia pazienza ecco lo tolgo subito è una volevo vedere un attimo il ponte di Calafuri che mi ricorda la mia Livorno grazie mille Alessandro ancora e spero di vederti su questi lidi ti abbraccio forte 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 grazie grazie di tutto e grazie per questa chiacchierata interessantissima grazie a te ciao 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 ciao